Perrello ormai dovreste essere abituati alle zone alte della classifica, comunque fa sempre un certo effetto stare lì. Ma sicuramente, poi chiaramente è il primo anno nella Serie C unica, quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo e sappiamo che stando lì su aumenta anche la nostra voglia di fare bene più avanti. Dove punta questo terramo? Dove punta? Adesso forse è ancora un po' presto, viviamo la settimana e sappiamo che tutti i punti che facciamo saranno buoni per il proseguo del campionato. Fino a questo punto della stagione hai trovato poco spazio, fra poco riapre il mercato, ti senti interessato? Questi sono discorsi che dovrò affrontare con la società, chiaramente io adesso sono bene qui, è il quarto anno che sono qui a Terramo e penso che non ci sia nessun problema se mi vogliono far rimanere. A Pontedera contro un avversario difficile, visto che è un punto soltanto dietro a voi, il Terramo non ha una grossa tradizione, però questa volta ci si può provare? Ma forse avendo sfadato il tabù delle Toscane con la vittoria in casa domenica col Prato, sicuramente andremo su per fare la nostra partita, dopo tutto quello che verrà sarà di guadagnato. Col 5-3-2 tu trovi sempre meno spazio, di questo sei convinto? Sicuramente non è un modulo che mi agevola, però chiaramente posso fare l'attaccante, ho imparato anche a difendere nel corso degli anni, quindi posso fare la mezzale e anche il tutta fascia, di conseguenza dove sarò utile mi schiererò. Sai che il Pescara ancora chiede di te? Lo spero, anche se non è che c'era tutta questa voglia di riportarmi a Pescara, c'è stata la possibilità, ma hanno sempre preferito lasciarmi qui a terra. Però si informano? La cosa mi fa molto piacere.